Rinunciare a o meno a 7 minuti dei 15 di pausa tra un turno e l'altro di lavoro è la scelta che devono fare le 11 donne protagoniste dello spettacolo 7 minuti in scena ieri e oggi al Municipale di Piacenza. Ispirato ad una storia vera, il testo di Stefano Massini portato a teatro da Alessandro Gasman parla di lavoro, donne e diritti. Oggi la compagnia di attrici, tra cui Spicca, Ottavia, Piccolo, ha incontrato il pubblico piacentino al teatro dei filodrammatici. Sarà il personaggio di Bianca, interpretato proprio da Piccolo, a mettere in luce che quella che sembrerebbe una piccola concessione ai datori di lavoro, i 7 minuti di pausa in meno, se moltiplicata per le 200 operaie della fabbrica, significa 600 ore lavorate in più e gratis ogni mese. Il Municipale è un teatro bellissimo e il pubblico era molto attento, compreso, partecipe, devo dire che ci succede sempre, però è stato bello perché c'era un sacco di pubblico giovane, che è quello che vogliamo di più. Stiamo attraversando un momento in cui il lavoro è la cosa più importante da difendere o da conquistare, ma il testo di Massini mette in luce l'importanza della responsabilità individuale, ha spiegato Ottavia Piccolo. È un testo sulla responsabilità individuale e quindi è quello che ci dice che spesso le nostre cose dipendono da noi, dalle scelte che facciamo e non dobbiamo delegare agli altri, quindi in questo è ancora più attuale se vogliamo, perché è proprio quello che ci sta mancando in questo periodo. Con l'attrice abbiamo parlato anche della crisi che non ha risparmiato il teatro. Io sono molto fortunata, sono arrivata a un punto della mia vita professionale in cui non ho bisogno di correre dietro al lavoro, sono io che decido, sono io che scelgo, certo però le difficoltà ci sono e sono rappresentate proprio dal fatto che i teatri hanno meno possibilità, perché hanno meno finanziamenti, i comuni, tutte le istituzioni hanno meno soldi. La nuova legge del teatro è molto discutibile, secondo me, non credo che risolverà i problemi, anzi secondo me questo primo periodo li acuisce, quindi insomma la crisi c'è. Però c'è anche una grande voglia da parte del pubblico di mettersi in discussione e di provare a capire che cosa sta succedendo intorno.